una buona giornata cari amici altro giorno e altro giro con le nostre top 11 storiche dei principali club del mondo vi ho visti molto attivi riguardo al lato 11 del derby di roma al lato 11 del classico al lato 11 di juve napoli vi ho visto molto partecipativi nella discussione e io mi diverto perché come vi ho detto più volte era il senso di questa serie di video che ho voluto presentarvi una serie di video in cui io eleggo le mie squadre preferite le mie versioni preferite degli ultimi 30 anni di calcio dei club principali del mondo cercando anche di creare sfide appassionanti sfide significative ho preso in considerazione i giocatori dal 1990 ad oggi questo per restringere un po il campo come vi dico sempre è chiaro vanno fuori delle figure storiche ma bisogna mettere delle regole a questo tipo di gioco perché poi si tratta di un gioco nessuno io per primo deve avere la pretesa di mettere i più forti di dire la verità assoluta su quelle che sono state le squadre migliori che prendiamo in esame si va anche molto a gusti si va a cercare di stimolare una sorta di discussione da bar sport quelle che occupano i pomeriggi degli appassionati diciamo che di questi tempi abbiamo del tempo da spendere cerchiamo di riannodare i fili con il passato cerchiamo di divertirci stimolando appunto la discussione cosa che mi pare sia arrivata leggendo i vostri commenti sempre numerosi sempre puntuali io vi ringrazio vi esprimo sempre la mia soddisfazione adesso mi prendo una pausa oggi dal calcio italiano vi voglio portare due sfide una francese e una inglese come vi ho detto oggi pomeriggio a partire dalle 18 uscirà il video con le mietopundici di arsenal e celsi questa mattina invece voglio parlare di calcio francese un po perché è un momento in cui ne parlo volentieri visto che la notizia brutta per noi appassionati di calcio e in generale per tutti in questo momento è arrivata la ligand non riprenderà questa è la decisione ed è una cosa triste è una cosa triste perché comunque quando il calcio si ferma è triste soprattutto per i motivi legati a questo stop e poi perché insomma mi va di testimoniare vicinanza ai nostri cugini d'oltre alpe non amatissimi per la verità però la storia del calcio francese è una storia ricca c'è grande passione per il gioco ci sono state espressioni molto molto belle molto molto gustosi sono andato tante volte in francia a vedere delle partite mi piace questo calcio mi sono piaciute tante squadre e vi voglio presentare la sfida che riassume secondo me il meglio del calcio francese degli ultimi 30 anni faccio una premessa la rivalità del football transalpino per me è marsiglia parigi o m page è assolutamente le classic del calcio francese però occupandoci in questa serie di video di calcio dal 90 ad oggi non si può andare fuori dal testa a testa fra lione e paris saint germain perché l'olimpique marsiglia ha avuto un grande ciclo ha avuto grandi successi nei primissimi anni 90 poi però c'è stato il primo ciclo del pg nella seconda metà degli anni 90 con la conquista della coppa delle coppe del 96 che rimane tuttora l'unico trofeo internazionale vinto dal paris saint germain c'è un'affannosa e continua ricerca per tornare a festeggiare un qualcosa di europeo ma non ce l'ha ancora fatta il paris saint germain quindi quello è un ciclo importante un ciclo vincente che ha espresso figure anche molto gustose iconiche che voglio riportare in questa squadra poi c'è stata la grandissima parentesi del lione nel primo decennio del 2000 con addirittura il record assoluto di sette campionati consecutivi vinti e una presenza stabile anche nel gota del calcio europeo perché per almeno un lustro il lione si è sempre piazzato fra le prime otto d'europa squadra di massimo livello in un'epoca in cui il calcio era veramente di alto livello per cui anche in questo caso abbiamo fior fior di giocatori da presentare oggi c'è il paris saint germain delle superstar per cui direi che magari c'è un po di sbilanciamento perché l'iniezione di campioni giganteschi fatta negli ultimi anni dal paris saint germain è un qualcosa che sbilancia però io sono convinto di poter presentare un lione allo stesso modo gustoso e allo stesso modo credibile sempre con la regola di escludere i doppi ex e in questo caso stanno fuori i giocatori importanti perché sta fuori ad esempio ludovici julie sta fuori soprattutto direi per l'importanza che ha avuto nella squadra del lione soprattutto gregory coupé che sarebbe stato il portiere dell'ol senza discussioni monumento assoluto di quell'epoca dorata però coupé ha deciso di andare a chiudere la carriera al paris saint germain tra l'altro anche con il tragicomico incidente che ha chiuso la sua carriera al brutto infortunio al ginocchio e quindi coupé non può essere il portiere del lione così come non può essere l'allenatore del lione le guenne le guenne è stato il migliore secondo me allenatore del lione in quel ciclo ma è stato anche allenatore e giocatore del paris saint germain dunque non può partecipare non può partecipare furnier che avrei messo forse come terzino destro del pg anche per la portata storica della sua figura non possono partecipare altri giocatori come bravo come maurice però ripeto materiale ne abbiamo per cui andiamo a vedere le mie scelte per letto 11 degli ultimi 30 anni di lione e paris saint germain in questa ipotetica sfida parto dal lione e parto appunto affrontando il tema portiere perché non potendo schierare coupé si va per forza su una figura secondaria non secondaria dal punto di vista del livello perché in questo caso scelgo il livello assoluto lo avete capito dall'etto 11 che vi ho presentato in certe situazioni vado proprio sul sull'importanza del giocatore sul livello in altri casi invece cerco di premiare l'importanza storica quindi lo status e la figura in questo caso non potendo contare su coupé mi prendo ugo ioris senza dubbio il portiere di miglior livello che lione ha avuto negli ultimi anni ioris che dall'oel ha sfruttato il trampolino per poi andare a fare grande carriera in inghilterra con il tottenham e direi che la scelta va su di lui voglio citare antoni lopez che da tanti anni è il portiere di riferimento del lione un'altra figura che sarebbe stata credibile è quella di pascal olmetà però ho ritenuto che la carriera migliore di olmetà sia stata con la maglia dell'olimpic marsiglia anche verkut va citato però per me il portiere è ugo ioris veniamo alla difesa difesa dove sui terzini non ho avuto il minimo dubbio mentre per quanto riguarda i difensori centrali un minimo di ragionamento ve lo voglio presentare i terzini del lione per me sono a destra reveiller senza discussioni 10 stagioni 400 partite con il lione una presenza costante puntuale precisa pulita giocatore di riferimento tra l'altro giocatore che si è segnalato anche all'estero la stragrande maggioranza della sua carriera e la parte più significativa l'ha vissuta con l'olimpic lionese però ad esempio reveiller ha vinto una coppa italia con il napoli ha giocato anche nel valenza per cui lui assolutamente il terzino destro così come è indiscutibilmente il terzino sinistro del lione erika bidal uno dei migliori terzini sinistri degli ultimi decenni di calcio internazionale io ve l'ho detto più di una volta quest'etopundici le faccio molto distinto ci penso un attimo e poi vado sull'onda magari le cambio anche in corsa mentre le sto facendo e a volte capita magari di ripensarci e di rivedere qualche scelta o comunque riapprofondirla ieri parlando lato puntici del classico ho preferito giordialba ad abidal poi ci ho pensato un po durante la serata non voglio dire che abidal sia superiore a giordialba come valore assoluto ma non voglio neanche dire che giordialba sia superiore ad abidal oggettivamente senza discussione sono due grandissime figure ho preferito giordialba abidal non ci va lontano un po discorso che ho fatto per il real madrid fra roberto carlos e marcello per cui mettiamola così giordialba gioca per il barcellona abidal gioca sicuramente per il lione arrivò dal monaco poi andò al barcellona e ripeto abidal per livello tecnico anche per eleganza per status che ha sempre presentato sul campo è uno dei terzini di riferimento del calcio degli ultimi trent'anni per quanto riguarda invece i centrali del lione voglio approfondire un pochino il discorso perché sono convintissimo della coppia che ho scelto sia come rappresentanza che come livello però sono rimasti fuori altri giocatori specialmente uno che mi spiace aver escluso per l'importanza che ha avuto nel lione bene i due centrali per me sono il capitano il baluardo il punto di riferimento assoluto chris una colonna indiscutibile del lione più vincente della storia e come centrale sinistro samuel untiti per il livello del giocatore che con il lione ha scritto pagine importanti poi è andato a barcellona ultimamente ha avuto diversi problemi fisici untiti e ha perso un po del suo status a vantaggio di langley a barcellona però le qualità la forza di questo centrale mancino è indiscutibile per cui metto lui al fianco di chris e rimane fuori dalla top 11 un'altra figura iconica del lione come claudio cassapa che di campionato ne ha 26 con la maglia dell'ol per cui lo cito immediatamente dopo i due titolari però mi sembra che la coppia formata da chris untiti sia una coppia migliore sia una coppia di più alta valenza e quindi cassapa rimane fuori ma con citazione di merito così come voglio citare anche patrick muller svizzero che è rimasto nel cuore dei tifosi del lione passiamo al centrocampo ho deciso di schierare un sistema di gioco anche equilibrato anche credibile un 433 che si disassa sul 4231 anche per stare sull'onda del calcio che è sempre espresso la scuola del lione e questo spettacolare progetto inventato dal pittoresco ma anche molto acuto presidente olas quindi presento un terzetto di centrocampo e anche in questo caso ho vagliato un po di figure però non riesco a staccarmi dalla meravigliosa espressione di quel terzetto di centrocampo quindi prendo un reparto in blocco ed è il reparto formato da mamadou di arra e sien e giunigno pernambucano avrei un triangolo alternativo secondo me di livello paragonabile perché se mettessi ed milson giocatore tattico giocatore fisico giocatore importante anche per il barcellona e prima per il palmeiras se mettessi tula lan grande centrocampista completo a tutto tondo un vero e proprio soldato della causa del lione e se mettessi pianic come mezzala offensiva non scadrei di livello poi voglio citare ad esempio gonalon altro giocatore di riferimento nella storia recente del lione che lì ha tenuto un livello davvero considerevole un altro giocatore che voglio citare violò perché magari non è immediatamente riconosciuto e ricordato ma io me lo ricordo violò ed era un bel giocatore però mamadou di arra e sien e giunigno pernambucano mi rappresentano lione e mi rappresentano un reparto che manderei in campo assolutamente a scatola chiusa di arra giocatore fisico ma anche equilibratore e fine bilanciere tattico con un livello tecnico apprezzabile infatti poi andato a giocare anche per il real madrid ma madou di arra credo che attualmente venga considerato uno dei migliori centrocampisti mediani che il lione abbia mai avuto per cui in campo ci va anche perché era appunto il perfetto bilanciere per il dinamismo di sien che a lione si è rivelato arrivando se non ricordo male dal bastia e poi ha spiccato il volo vestendo anche lui la maglia del real madrid vestendo quella del milan vestendo soprattutto la maglia del celsi con cui ha trionfato a tutti i livelli era davvero un piacere vedere gli equilibri e i sincronismi di questa coppia leggermente sfalsata di arra più mediano e sien più box to box più mezzala più centrocampista appunto di dinamismo agivano con una perfezione splendida per cui li metto tutti e due e ovviamente non mi sogno di togliere giuninio pernambucano il più grande idolo il più grande giocatore nella storia del lione non solo per i suoi calci di punizione ha segnato 77 gol su punizione giuninio pernambucano e per molti è il miglior battitore libero di sempre credo che non sia una considerazione del tutto fuori luogo ma poi anche il suo calcio un calcio bello un calcio illuminato ma un calcio anche pratico sostanzioso giocatore totale giuninio pernambucano e se scende in campo lione scende in campo per forza anche giuninio per cui questo è il centrocampo che ho scelto pur citando gli elementi che avrebbero potuto partecipare senza grossi problemi a questa rappresentativa veniamo al tridente e anche in questo caso ho fatto un mix di valore assoluto e di rappresentanza storica sempre tenendo presente che i giocatori che scelgo sono giocatori che io ritengo grandi giocatori quindi non solo l'immagine ma anche poi la sostanza lavorando sugli esterni del tridente questa è una formazione un po meno sbilanciata un po meno surrealista un po meno inventata rispetto alle altre è una formazione vera una formazione equilibrata che potrebbe stare tranquillamente sul campo come attaccanti esterni ho scelto i due più grandi talenti espressi e presentati e lanciati dal lione in questo periodo in questi 30 anni ovvero karim benzema e alexandre lacasette li ho preferiti ad altre due figure che secondo me vanno assolutamente citate per il ruolo e una è sydney guvu l'altra è flora maluda che poi ha vestito anche lui come sienne la maglia del celsi guvu è stato un uomo di enorme continuità ha vinto tutti e sette i campionati consecutivi del lione così come ha fatto coupé è un giocatore che grazie al lione ha conquistato anche la nazionale francese ha conquistato considerazione internazionale giocatore veloce giocatore tagliente però gli è sempre mancato un filo di killer instinct e per questo non è arrivato a livelli degli altri maluda altro giocatore assolutamente apprezzabile però secondo me benzema e lacasette sono quelli da schierare entrambi hanno superato i 100 gol con la maglia del lione benzema fu un'esplosione totale e tra l'altro occupava proprio questa posizione non di centravanti puro ma di attaccante d'accompagnamento poi arrivando anche a fare il numero 9 con le caratteristiche che tutti conosciamo e gli riconosciamo ovvero splendida capacità di legare i reparti di essere uomo squadra oltre che super bomber karim benzema è un altro giocatore che non toglierei mai dal campo e poi ripeto a lione ha vinto quattro campionati ha vinto la classifica dei cannonieri giocatore indiscutibile benzema per cui lui deve giocare e lo stesso lacasette che mi pare sia arrivato vicino ai 130 gol con la maglia del lione è uno di quei giocatori che prende a pieno il mio gusto perché sono realizzatori ma sono anche giocatori di calcio molto completi lacasette può fare la punta può fare la mezza punta può fare volendo anche l'esterno del tridente non esterno puro esterno un po più interno diciamo ma è un giocatore di grande scuola di grande capacità tecnica per cui sono abbastanza convinto della mia scelta di benzema e lacasette mentre ho ragionato un po di più sul ruolo di centravanti perché il lione di centravanti me ne dava a disposizione voglio citare fred grande mestierante brasiliano altro giocatore con un feeling innato per il gol e con una figura molto gustosa molto divertente voglio citare assolutamente l'iccia lopez l'iccia lopez a lione ha segnato tanto così come ha segnato tanto con tutte le maglie che ha vestito e mi intrigava la sua figura anche per il fatto che oltre ad essere stato un numero 9 di enorme identità l'iccia lopez è sempre stato anche uno molto adatto a collaborare ha sempre fatto la fortuna anche di chi giocava con lui nonostante si sia sempre presentato come un bomber da classifica dei cannonieri l'ho fatto a lione l'ho fatto al porto l'ho fatto al racing di avicianeda chiedete ad esempio a lautaro martinez che è fiorito proprio giocando in coppia con l'iccia lopez un altro che voglio citare giovane elber elber così come al bayern monaco quando facevo lato pundici un paio di giorni fa è un giocatore che prendo sempre in considerazione perché è uno che ha fatto tanti gol e ha fatto tanti gol belli movenze molto eleganti per giovane elber ma anche in questo caso arriva solo vicino ad essere il titolare cito anche uno piccante uno colorito come caveglià tutto per dire che loro guardano e in campo ci va sonny anderson perché sonny anderson è stato a sua volta un'icona del lione ha vinto due volte la classifica dei cannonieri ha marcato trionfi significativi e poi appunto è stata anche una figura è stato un personaggio che ha esaltato la gente del lione ma anche ispirato in quegli anni in cui imperversava anche con la maglia del barcellona ha vestito altre maglie in francia se non ricordo male ha vinto la classifica dei cannonieri anche col monaco sonny anderson e ripeto era anche una figura di ispirazione perché la leggenda vuole che quei calzettoni tirati su oltre il ginocchio siano sempre stati un'ispirazione per terry harry che ha sempre visto sonny anderson come un attaccante in cui specchiarsi è da imitare mica male come modello da seguire per cui sonny anderson è il mio centramanti per il lione che vado a schierare così vi riepilogo la formazione dell'ol che ho scelto ioris importa perché cupello sotto l'un'altra volta non era selezionabile essendo doppio ex reveillera a destra abida alla sinistra centrali chris e untiti in mezzo al campo mamadou di harra essien e giunigno pernambucano benzema la casette e sonny anderson non potendo dar la squadra a paul leghenne decido di darla a ulier vi confesso non sono mai stato un fan assoluto di gerard ulier come allenatore soprattutto quando guidava il liverpool secondo me non dico che potesse fare le cose meglio non mi permetterei mai però non sempre sono stato d'accordo con le sue visioni con le sue scelte gli riconosco però grande rispetto per la figura per la carriera per la dimensione internazionale quindi credo che fra i tecnici alternativi alle genne ulier sia quello con lo status maggiore per poter guidare questa squadra in questa immaginaria sfida e adesso veniamo al pari saint germain a quello che il lione si ritrova di fronte una vera e propria parata di stelle anche se voglio appunto collegare i due grandi cicli due cicli molto significativi due cicli anche diversi perché il pari saint germain degli anni 90 quello vincente della seconda parte degli anni 90 era anche un pg da banlieue con delle espressioni popolari delle espressioni iconiche per certi versi anche grandi giocatori internazionali ma era un pg con un'anima un po più attaccata alla propria città mentre il paese attuale è una super squadra internazionale però dei giocatori favolosi per cui voglio fondere un po le due cose anche nella scelta delle figure cerco un mix cerco un bilanciamento vediamo dunque che tipo di pari saint germain si può mettere sul campo in questa top 11 dal 1990 ad oggi partiamo dalla porta in questo caso allora ve l'ho detto sono sempre sul filo della scelta fra il valore assoluto del giocatore e l'importanza che ha avuto all'interno della squadra se noi parliamo del portiere più forte della storia del pari saint germain parliamo inevitabilmente di gg buffon nessuno è stato al suo livello e questo è fuori da ogni discussione però mi viene difficile pensare a buffon come un simbolo del pg c'è stato un solo anno non è stato particolarmente protagonista per cui mi sembrerebbe una scelta un po forzata un altro italiano va citato per i pali del pg ed è salvatore sirigo l'attuale portiere del torino lui ha avuto un ciclo un po più significativo però il portiere del pari saint germain anche per appunto dare un certo tipo di anima a partire dalla porta è bernard lama considerato comunque uno dei migliori portieri francesi della storia portiere felino portiere molto reattivo è stato nazionale francese è stata una figura di assoluto status come livello non è paragonabile buffon però io credo che possa rappresentare assolutamente la storia recente del pari saint germain e sia un portiere affidabile per questo top 11 passiamo alla difesa e passiamo ad altri discorsi da fare soprattutto per quanto riguarda il terzino destro perché fournier non è selezionabile fournier anche lui un pezzo di storia del pari saint germain però ha giocato anche con la maglia del lione altrimenti avrei messo lui probabilmente come terzino destro se parliamo di valore assoluto allora come danny alves nessuno mai perché danny alves è uno dei più grandi in assoluto però anche lui non mi sento di segnalarlo come un rappresentante del pari saint germain quindi lo cito ma non lo schiero cito anche i terzini della squadra attuale che come livello sarebbero terzini dato pondici delle pg penso a curzawa penso a meunier penso a bernat sulla sinistra però la mia scelta va anche in questo caso sulla portata storica e quindi come terzino destro schierò benjamin mandy perché è stata una figura per quasi un decennio del pari saint germain ha giocato quasi 250 partite con questa maglia e ha avuto anche l'esito personale il protagonismo individuale perché mandy segnò il gol decisivo nella finale di coppa di lega del 2009 contro il lance per cui anche in questo caso come livello rispetto ad altri potrebbe essere un po più in difficoltà però serve un'anima alla squadra e mandy è la mia scelta come terzino destro del pari saint germain per quanto riguarda il terzino sinistro invece di dubbi non ne ho e vado a premiare una figura che a volte rimane un pochino sullo sfondo ma parliamo veramente di un grandioso giocatore sto parlando di maxwell che ha vestito maglie enormi in carriera oltre a quella della nazionale brasiliana si conta l'ajax si conta il barcellona si conta l'inter si conta il pari saint germain e in una carriera in cui ha vinto 37 titoli maxwell è uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio 15 in 5 anni gli ha vinti proprio con il page per cui metto lui anche perché ripeto magari non viene preso immediatamente in considerazione quando si parla delle grandi espressioni di grandi squadre di questo periodo ma maxwell ovunque è andato è stato protagonista e ha vinto vincendo tanto per cui mi fa molto piacere metterlo nel pari saint germain passiamo al discorso riguardanti centrali e per in centrali io scelgo due grandi colonne brasiliane escludo marchinhos e questo è il primo nome che vi voglio fare come citazione perché io credo che marchinhos abbia tutto per essere un grandioso difensore continuo a considerarlo poco per il centrocampo perché io lo vedo sempre più come difensore che non come centrocampista e tra virgolette quasi mi arrabbio tutte le volte che lo vedo giocare in mezzo al campo perché penso che sia un peccato anche se in molti l'hanno interpretato così e a centrocampo gioca molto bene ma è questione di gusti personali marchinhos credo che possa diventare uno dei difensori più importanti della sua epoca però in questo momento rimane in seconda fila voglio citare anche altri sudamericani importanti nella storia della difesa del page due argentini come pocettino e come il gringo hainze hainze è sempre stato un difensore che ho rispettato molto e attenzione perché pare essere un fantastico prospetto di allenatore con il velez ha fatto un lavoro fantastico gabriel hainze ha lanciato tantissimi talenti ha portato un calcio estremamente identitario è da seguire la carriera di hainze che si è dimesso dal velez è arrivato il flacco pellegrino vedremo dove continuerà ma è uno da seguire molto come allenatore altro difensore centrale che voglio citare del pari saint germain mario iepes va citato angotti che poi al milan non ha fatto granché ma che segnò il gol determinante per quella coppa delle coppe del 1996 in finale contro il rapid vienna di janker e del futuro portiere romanista konsel voglio citare anche un'altra figura un po del passato una figura elegante come il libero alain roche però alla fine la mia scelta per i due difensori centrali va su tiago silva se non lo avete capito ho una passione sconfinata per tiago silva perché lo ritengo il difensore centrale perfetto lo sto inserendo in tutte queste top 11 tiago silva è forte fisicamente è forte di testa fermo nella marcatura vigoroso nell'anticipo di grande leadership e carisma con capacità di guida e con un livello tecnico molto apprezzabile per cui per me è il prototipo di quello che dovrebbe essere il difensore centrale e tiago silva gioca anche per il pari saint germain al suo fianco mette un altro brasiliano come riccardo gomez figura molto amata a parigi per i suoi valori per la sua capacità di essere difensore centrale totalmente affidabile ma anche per la sua eleganza per la sua compostezza quasi l'umiltà con cui si è sempre espresso poi ha fatto anche una carriera significativa da allenatore riccardo gomez voglio mettere lui al fianco di tiago silva pur citando e ci ho tenuto molto tutti gli altri difensori che vi ho presentato quindi fatto il portiere fatta la difesa della pari saint germain occupiamoci del settore offensivo qua sciolgo abbastanza le briglie perché metto un centrocampista di equilibrio e poi scatena una batteria di cinque giocatori d'attacco che possono portare qualcosa di veramente esaltante il casting per il centrocampista di equilibrio è stato un po' complicato perché avevo delle delle figure e soprattutto un ballottaggio che mi ha tenuto fin quando praticamente mi sono seduto per fare questo video voglio citare fra i centrocampisti che ho preso in considerazione anche benua coet che ha giocato un solo anno se non ricordo male a parigi ma che si è sempre fatto apprezzare poi in italia con l'inter con il torino centrocampista completo centrocampista di lavoro centrocampista con valori per cui coet va citato voglio citare assolutamente matuidi altro elemento che forse quest'anno la juventus ha fatto capire un po' a tutti il suo valore tattico il suo valore a livello di movimenti di partecipazione atletica alla partita ma anche di inserimenti è sempre stato un giocatore tagliente con le sue incursioni per cui matuidi va citato assolutamente in questo novero ce ne sarebbero degli altri ma la finale diciamo per il posto in questo top 11 è stata fra tiago motta e verratti ho scelto tiago motta anche per il volume totale della sua carriera perché tiago motta è sempre stato un giocatore determinante in grandi club pari saint germain che è stato quello che ha rappresentato di più in carriera quello con cui ha giocato più partite ma anche inter barcellona lo stesso genoa la nazionale italiana che ha preferito rispetto a quella brasiliana mi serve uno come lui per sostenere i 4 più 1 che schiero davanti quindi un giocatore di forte presenza agonistica ma anche un tattico uno che lavora sui posizionamenti e comunque uno che fa uscire il pallone con qualità in tutto ciò però voglio spendere due parole in più su verratti che forse è più considerato in francia che non in italia perché tendiamo a volte a sottolineare qualche difetto di verratti ma per me verratti in questo momento è il centrocampista italiano più importante di tutti a livello di status a livello di esperienza in certe partite e in certi livelli a livello anche di convivenza con giocatori veramente importanti io credo che verratti sia uno dei giocatori più significativi della storia recente del paris saint germain e non avrebbe assolutamente sfigurato nel livello di queste top 11 ho scelto tiago motta solo per una questione di equilibrio e perché ha avuto una carriera già completamente sviluppata e già conclusa forse quando finirà la carriera verratti questo ballottaggio sarà ribaltato ci conto abbastanza perché spingo molto verratti ripeto è un patrimonio enorme del calcio italiano però scelgo tiago motta e adesso veniamo ai grossi pesi alla gente che gioca davanti schiero due fantasisti due attaccanti esterni e un centravanti schiero due numeri 10 credo l'abbiate capito se ho la possibilità di far giocare un numero 10 ne faccio giocare due perché perché questo è il senso del calcio stiamo oltretutto facendo delle top 11 ideali e quindi cerco di scatenare la qualità di scatenare la fantasia a maggior ragione se ho la possibilità di far giocare due così due come ronaldinho e rai due numeri 10 brasiliani praticamente all'esatto opposto l'uno dell'altro perché ronaldinho è stato sempre chiasso è sempre stato colore è sempre stato allegria esplosione di spettacolo ronaldinho pur parlando la lingua più alta possibile in termini calcistici è sempre arrivato dritto al cuore e alla pancia delle masse perché ronaldinho ha sempre giocato per divertirsi e per divertire lo ha fatto ovunque ha vinto si è fatto applaudire con la maglia del barcellona al bernabeu ha sempre incantato ronaldinho ha sempre distratto ha sempre portato in un mondo di fantasia e quindi se ho la possibilità di far giocare ronaldinho se ho la possibilità di vedere giocare ronaldinho facci in modo che ci sia sempre particolare l'idea di questa convivenza con rai che appunto è stato il suo esatto opposto perché se ronaldinho era rumore era carnevale era festa velocità abbaccinante rai invece è sempre stato un giocatore riflessivo un giocatore dal passo felpato ma dei piedi veramente colmi di velluto un giocatore elegante un giocatore bello dal calcio quasi sussurrato mi viene da dire ma dal calcio assolutamente illuminante e in grado di conquistare chiunque rai è stato il massimo idolo di infanzia di cacca per darvi l'idea della portata che aveva anche in patria la patria dei numeri 10 il brasile per cui pensare di vedere ronaldinho e rai giocare nella stessa squadra mi fa mi fa davvero entusiasmare oltretutto io sono sicuro che il 99,9 periodico per cento dei tifosi del peggio se gli venisse chiesto chi è il più grande idolo della storia del pari saint germain risponderebbe gridando all'unisono rai quindi non può stare fuori da questo tipo di squadra e ho dovuto escludere centrocampisti offensivi di enorme qualità parto da jerka f che fu una figura significativa di quel ciclo con la coppa delle coppe del 96 e che poi ha spiegato il suo calcio anche in italia con la maglia dell'inter voglio citare jj okoccia velocissimo grande riblomane elemento di grandi qualità atletiche nigeriano che però aveva anche un senso tecnico e un senso calcistico veramente alto voglio citare valdo altro giocatore di splendida classe che arrivò dal benfica e diventò una figura di riferimento per il pari saint germain voglio citare leonardo altra figura importante sia con la maglia addosso che in giacca e cravatta ne insomma sono veramente tanti giocatori a citare lo stesso beckham beckham a parigi ha fatto un cammeo però ha portato anche lì la sua classe il suo modo di essere e fra i grandi giocatori beckham va sempre citato però ronaldigno e rai sono i due numeri dieci di questo pari saint germain e ce ne sarebbe un terzo di numero dieci perché comunque a sinistra io faccio giocare neymar junior un altro che per potenziale per capacità è sempre da vedere in campo e lo metto davanti a una figura gustosissima come quella di davidgino la elemento esuberante in campo e fuori bello appariscente però neymar oltretutto dove essere il grande simbolo del gap colmato dal pari saint germain quando viene preso dal barcellona è la testimonianza definitiva del fatto che il pari saint germain vuole vincere la champions e non ce la fa anche perché neymar ha fin qui fallito fondamentalmente a parigi arrovellandosi su problematiche sue ma penso che abbia ancora tutto il tempo davanti per riprendersi lo status che dovrebbe avere ovvero quello di uno dei più grandi in assoluto del calcio attuale e del calcio anche storico per cui in una squadra del genere neymar lo metto così come nonostante la giovane età non riesco a tenere fuori mbappé che è il mio attaccante di destra in questa squadra a spese di uno che alla fine paga sempre il conto in queste situazioni ovvero il fideo anche il di maria di maria avrei potuto prenderlo assolutamente in considerazione anche per la top 11 del real madrid visto quel che ha fatto nei tempi di ancelotti però è rimasto fuori lì e rimane fuori anche dal pari saint germain nonostante di maria sia un giocatore eccezionale un giocatore splendido per il suo calcio continuo un giocatore che emerge sempre anche se non ha mai lo status di stella primaria per cui ci tenevo a citare di maria però mbappé non solo il futuro mbappé è già il presente perché tolti i mostri sacri assoluti è quello che gioca con il più alto livello tecnico alla più alta velocità e nel calcio che si gioca oggi fa la differenza poi è già campione del mondo è già un giocatore svezzato alle medie realizzative più impressionanti che ci siano in giro per cui parliamo di una top 11 storica parliamo di un ragazzo molto giovane ma lo mettiamo dentro perché mbappé mbappé è un altro il cui nome rimarrà scolpito nella pietra della storia di questo gioco e veniamo ai centravanti anche in questo caso ragionamento abbastanza lungo da fare perché se io penso ai due concetti centravanti e paris saint germain convergono immediatamente in un nome ed è quello di pauletta pauletta è per me il centravanti del paris saint germain e credo anche per molti tifosi però in questo caso parliamo anche un po di livello parliamo anche un po di figure un'altra figura a cui ho pensato è quella di george wea calciatore emblematico degli anni 90 sia per il sarebbe arrivato a conquistare anche i traguardi individuali che ha conquistato però non metto neanche wea cito assolutamente cavani il matador giocatore che mi piace tantissimo l'ho sempre visto come un levriero tagliente con l'eleganza delle sue movenze questa figura molto affusolata sinuosa agile e di grande potenza perché quando si scatena in area di rigore cavani è incontenibile però non gioca neanche lui un altro che voglio citare è anel cam perché comunque merita la citazione voglio citare patrice loco che era lo stilosissimo centravanti di quel paris saint germain di metà anni 90 giocatore che quando ero bambino mi piaceva mi piaceva molto aspettavo sempre di poter vedere giocare patrice loco detti tutti questi citato anche marco simone dai perché perché un italiano perché con il milano ha fatto cose grandi e perché a parigi è ricordato con molto affetto detto tutto questo dicevo quando c'è di mezzo zlatan ibraimovic gli altri aspettano e si spostano perché lui è impossibile da spostare impossibile da escludere da una top 11 quindi scelgo ibra come centravanti un altro simbolo della grande parigina e poi ibraimovic in una squadra del genere ce lo pensate ibraimovic neymar mbappé rai ronaldigno calcio favoloso un vero e proprio squadrone completato da tiago motta come centrocampista in porta lama in difesa mondi da una parte maxwell dall'altra i due centrali riccardo gomez e tiago silva una squadra che ho pensato di affidare a luis fernandes sempre per l'idea della storia è stato uno dei giocatori più importanti del paris saint germain è stato allenatore nel periodo in considerazione però in questo caso ho anche pensato parliamo di una squadra di superstar parliamo del club al momento forse più glamour più posh che ci sia in giro parliamo di una squadra che ha l'ossessione di arrivare a vincere la champions league parliamo di una squadra da dare a carlo ancelotti perché saprebbe gestire perfettamente questi campioni troverebbe il sistema per metterli in campo per farli convivere perché re carlo è il numero uno degli allenatori di quest'epoca questo perché io continuo sempre a tendere a considerare guardiola più uno scienziato che non un allenatore però insomma diciamo che quando parliamo della figura di carlo ancelotti non c'è nessuno di superiore a priori per cui il paris saint germain lo do in mano a carlo ancelotti bene spero di avervi divertito con queste top 11 spero di avervi anche fatto ricordare dei giocatori che comunque hanno fatto parte dell'attualità anche dell'immaginario di chi ha seguito il calcio in questi ultimi 30 anni aspetto le vostre notazioni e vi do l'appuntamento per oggi alle 18 con il grande derby fra celsi e arsenal qui sempre sul nostro canale